Andiamo in Germania, dove l'inventore Stefan Riederer usa estremi rimedi per evitare il traffico di punta. Questa è ciò che chiamerei un'acquacicletta. Chiamatelo come volete, questo mezzo ha ottenuto quasi un milione di visualizzazioni. Altro che camminare sull'acqua, quest'uomo ci pedala. La parte superiore è una bicicletta normalissima, però le ruote sono state sostituite con alette idroplane e la catena aziona un propulsore che fa spostare in avanti la bicicletta. Le alette idroplane funzionano un po' come le ali di un aereo. Nell'attraversare l'acqua, la loro forma determina una zona di maggiore pressione sotto di esse e minore pressione al di sopra. Questo produce la spinta che tiene la bicicletta fuori dall'acqua. Finché pedala, Stefan se ne sta all'asciutto. Ma cosa succede se si stanca? Purtroppo, su una bici d'acqua, non puoi mai smettere di pedalare. Se la velocità cala sotto un certo limite, le alette non forniscono più la spinta necessaria e la bici inizia ad affondare. E Stefan si ritroverebbe in fretta con l'acqua alla gola.